Buonasera, eh no, buongiorno scusatemi, buona Befana, dunque intervengo di nuovo, dunque fare un nuovo video Ultima, ultima, ultima ora, anche in casa Milan ci sono due positivi Dunque, si tratterebbe di Krulic e di Rebic che salteranno la partita di stasera Dunque, oltre a quelli della Juventus, anche due giocatori del Milan Saltano il big match di stasera a Milano Dunque, adesso staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore Intanto, questa notizia è appena arrivata, dunque, nelle redazioni Dunque, il Milan, Rebic e Krulic salteranno il match con la Juventus Adesso staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore Dunque, se ci saranno altri positivi in casa Milan Se questa partita alla fin fine si giocherà per ora, si gioca La partita per ora, dunque, è in programma Però, aspettando altre novità che si da Milano Dunque, dal quartier generale del Milan Dunque, vediamo cosa succede Intanto, Krulic e Rebic sono anche loro positivi al Covid-19 Attendiamo ulteriori notizie per stasera, dunque Per le prossime ore, dunque Ciao da Antonio della Svizzera Ci si vede più tardi O ci si sente più tardi, magari Se no, per il dopo partita di Milano-Juventus Ciao, a dopo per l'ultimissime Ciao